5 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, una ad un 21enne neopatentato e un'altra ad una donna. Inoltre un 33enne valtellinese è stato sorpreso a scorazzare lungo una via centrale del capoluogo con la ruota anteriore sollevata da terra. È significativo il bilancio dell'attività di prevenzione per contrastare le stragi del sabato sera, condotta nella notte tra l'11 e il 12 novembre dagli agenti della Polizia Stradale di Sondrio e dai colleghi del distaccamento di Mese. Sottoposti ad etilometro i conducenti di 20 veicoli incappati nei controlli con il preoccupante ed esolante risultato che uno su quattro si era messo al volante dopo aver alzato il gomito. Nei guai il 21enne neopatentato, un 24enne, un 27enne, un 37enne ed una 32enne denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza. Accertato a tutti un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,80 grammi per litro. Un trend preoccupante che non accenna a diminuire è quello degli automobilisti sorpresi a guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche sulle strade di Valtellina e Valchiavenna. Solo i dati della Polizia Stradale evidenziano che dall'inizio del 2017 ad oggi sono 108 le violazioni accertate su questo fronte, 17 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'ambito dei controlli condotti lo scorso weekend dagli uomini agli ordini di Carlo D'Apolito, comandante provinciale della Polizia Stradale, sabato mattina una pattuglia impegnata in attività di perlustrazione del territorio si è trovata sulla propria strada, il 33enne che in sella alla sua moto percorreva via Tonale con la ruota anteriore alzata. Nei confronti del Valtellinese che ha messo in serio pericolo la propria incolumità, ma anche quella di chi si trovava sulla strada in quel momento, è scattata una sanzione di 81 euro per guida pericolosa. La decurtazione di un punto dalla patente di guida, oltre al ritiro della carta di circolazione della moto, sottoposta inoltre a fermo amministrativo per due mesi.